Vincenzo Van Gogh Nasce in Olanda e comincia a essere attivo È subito incompreso, è disprezzato Soffre dei frequenti disturbi nervosi Morì all'età di soli 37 anni Questo è un autoritratto Il suo programma era Sono afflitto, ma sono sempre lieto Era detto una scuola metodista E poté coltivare il suo misticismo religioso Come il padre Che era pastore metodista E quindi alla sua arte Ha unito una forte ricerca E componente religiosa In questo quadro Lui commenta la parabola del buon samaritano È autore di ben 900 tele E ne ha venduto una sola nella sua vita Anche se adesso le sue tele Sono tra le più costose del mondo Questa tela è stata ceduta Per 130 milioni di dollari Ed è una cifra esagerata Eppure è in commercio molto forte Per la novità dei suoi colori Per l'impostazione delle sue cose Per la visione didattica del suo messaggio Ecco la parabola del buon samaritano Che racconta in Luca 10 Un uomo scendeva da Gerusalemme Lo spogliarono Lo percossero Se ne andarono Lasciandolo a mezzo morto Un sacerdote lo vide E passò oltre E lo vediamo lì raffigurato Nella sinistra Che scende la scala E se ne va E un lovita lo vide E passò oltre E lo vediamo là in fondo Nella zona nera Un samaritano Che vediamo in primo piano Ebbe compassione Gli fasciole ferite Lo portò alla locanda E disse all'albergatore Abbi cura di lui E ti rifronterò Al mio ritorno Bisogna identificarsi nei modelli E qui lo vediamo In due proposte grafiche In cui noi vediamo Lo spasmo degli autori La vivacità del racconto E nello stesso tempo La immediata partecipazione Dei personaggi Il samaritano E' il salvatore della vita Cosa fa? Lava le ferite Con l'olio e il vino Lo carica sulla cavalcatura Fa lo sforzo di sollevare il corpo Per metterlo sulla sella Inarca addirittura la schiena E fa leva con la gamba Punta il piede a terra E solleva il tallone Ha perfino rimboccato le maniche Per lavorare meglio E per essere più di servizio Il viandante Che gode di questa attenzione Del samaritano E' il derubato E' il malmenato Addirittura ha la benda sulla testa E' rilasciato Privo di forze Lungo la strada E viene caricato sul cavallo Non ha nemmeno la forza di salire E si aiuta aggrappandosi L'abbraccio E' scomposto Ed è vigoroso E si attacca di peso Al suo salvatore Anche il cavallo partecipa E sta attendendo Che il samaritano Lo possa mettere sulla cavalcatura Ha messo le orecchie dritte E' pronto a collaborare Addirittura ha piantato Uno zoccolo E con le altre Cerca di flettere Per aiutare Piegandosi un poco Il suo padrone A poter fare Questa opera buona E' tutta l'opera che vi partecipa Ed è una partecipazione totale Eccetto questo sacerdote In primo piano E in levita All'ultimo Che non lo avevano soccorso Uno cammina nel sentiero L'altro addirittura Si perde Nella strada Tutto sembra normale Ma tutto è altamente Inumano Lo stile e l'iconografia Della progettazione E' uno svelare le emozioni Quello che Van Gogh Percepisse Cioè Secondo il suo credo religioso Nel suo abile pennello Era vicino ai contadini E ai minatori Lui si sente solo E abbandonato Come l'uomo della parabola E quindi è Van Gogh Che è curato Che è assistito Che è portato dal cavallo Che è beneficato Che è voluto bene Lui che aveva Tanti problemi psicologici Della non accoglienza La struttura Compositiva Di tutto il sistema E' lo sforzo Per sollevare il ferito Fa forte pressione Sull'animale Che per contrastare La spinta Sempre muoversi Sulle zampe Il movimento Il movimento dei due uomini Che si abbracciano E' una linea sinuosa Che crea il movimento Ondulato Dei vestiti E che si diffonde Sull'animale E sulle montagne Sullo sfondo Insomma Farsi prossimo E' necessario Addossarsi Dolore e difficoltà Non far fare agli altri Quello che dovresti fare tu Non chiedere all'animale Di portare il tuo prossimo Sei tu che lo devi portare Certo l'animale ti aiuterà Il quadro ha una doppia composizione Come una diagonale Nella parte superiore Ci sono i colori freddi E le linee ondulate Ma la parte inferiore Che manifesta La partecipazione Del samaritano E' tutta la sua attenzione Ai colori che sono caldi I tratti sono anche brevi Le linee E' l'accoglienza I tratti Sono nel distacco Ed è così Che in questo stile Compositivo Vediamo in Van Gogh Tutta la sua partecipazione Al mistero Che è andato Raffigurandosi Ma da chi ha preso Un'ispirazione del genere E' da Delecrua Che aveva fatto Un quadro di quel genere Che lui aveva scomposto Nei colori E che ha riproposto In questo modo Certo che Altamente ispirato A tutta la scrittura E tutto il suo modo Di raccontare Di scrivere Di dipingere Di dipingere Per tutta la sua vita Ha dipinto La parola è luce E guida E forza I suoi connazionali Iolandesi A Amsterdam Gli hanno fatto Addirittura un museo Solo per lui Tanto è importante Questo Così che Ha fatto un altro quadro Sul falciatore Che lotta contro il demonio Il falciatore E' l'immagine Della morte E' l'umanità E' il grano Che è falciato Tutto viene messo in luce Oro fino E manifesta La lotta Tra il bene e il male E manifesta La nostra esistenza Che è sempre Una salita E sempre Una lotta Certo che Il suo modo Di dipingere Che era stato Fortissimo Nei pitturi veneti Per cui anche Tiziano Spesso E anche Palma il giovane Non usavano più I pennelli Ma usavano i colori E se li impastavano Con le mani Dando Un'incisiva Marcatura Perché c'era la concezione Che Non era il colore Ma era come Tu lo vedevi Ed era l'angolazione Della luce Che faceva sì Che quello fosse Bianco Rosso e verde O fossero I colori primari O secondari E che comunque I colori Li vedevi te Differenti da un altro A seconda Dell'ore E della impostazione E dell'angolazione Della luce Che nell'arcobaleno Vengono scomposti Perché noi diciamo Che la luce è bianca In realtà La scomposizione Della luce Nell'arcobaleno Vediamo che ci sono Sette colori fondamentali E quindi Anche tutta la natura E tutta colorata Siamo noi Che ricomponiamo A seconda Delle nostre impressioni Per questo Che si chiamano Impressionisti Perché vedevano Le cose In questo modo O in un altro La notte stellata Noi leggiamo L'antico Per vivere l'oggi Ma ognuno La vive nel suo modo Uno la percepisce In un altro Bastano anche Pochi attimi Per vederla già In un modo E in un altro Per cui Se capita Una notte stellata E lo si vede insieme L'unico modo È stare Tutti zitti E tutti si pensa E tutti si guarda Certo che La fede Accompagna Questa nostra ricerca Questo nostro vagare Che in questo caso È di nuovo Riproposto Sulla sinistra Il quadro Del samaritano Al centro C'è l'attenzione Al morente E Cristo Che è risorto Ed è così Che qui Van Gogh Comincia un particolare Nel vedere Il sole che sorge Il giallo Dei giapponesi E la visione Della natura Che è sempre Riproposta Nuova È la logica Del chicco di grano Che qui vediamo Che viene buttato E quindi Deve morire Però Il giallo L'orizzonte Il sole Deve tutto risorgere Come vediamo In questo caso Della deposizione In cui Gesù Viene assistito Viene guardato Viene proposto Da Maria Guardate se c'è un dolore Simile Al mio dolore Però È tutto Pieno di speranza Di gioia Nel fondale Diciamo che Van Gogh Impressionista È un pittore Fondamentalmente E fortemente Religioso E ispirato È un sentiero Per salire Dio Tutto il suo Modo di fare Con l'oro Del grano Però Contrastato Dal nero Dei corvi Che sono numerosi E incombenti Dall'orizzonte Ma allora Chi è che è solo È il samaritano O è il povero Derubato Ma chi è che è solo È solo Come Cristo In croce O è solo Chi ha paura Di regalare L'amore O è solo Quando mi credo Migliore O sono solo Se la preghiera È la prima A saltare O sono solo Quando dimentico La verità O sono solo Quando penso Con prepotenza O quando non faccio Il primo passo Verso il prossimo E me ne sto sdegnato Da una parte O sono solo Quando prendo E non dono mai Sono solo Quando tradisco L'amicizia Cristo in croce Non è solo È col padre E con tutto il mondo Siamo solo noi Che ragioniamo All'interno nostro Sì è solo Quando nessuno Ti rivolge la parola Sì è solo Quando nessuno Ti viene a trovare Sì è solo Quando nessuno Ti chiede Perché ti sei messo In mare Questo è un quadro Di Van Gogh Che raffigura Se stesso Mentre è ricoverato In un ospedale Psichiatrico E l'animazione La famosa Certo che I suoi colori La sua postura La sua immagine Fanno sì Come la natura Sia difficoltosa Per lui E soltanto La fede E la parola Lo possono guidare Ha fatto un bel ritratto Il ritratto Del signor Del signor Gachet Che è triste Ma è dolce Ha amore E serenità Questo è un quadro Tra i più Quotati Economicamente In questo momento Gli impressionisti Agivano sempre Sull'attimo Fuggente O dipingevano Un plein air All'aperto In modo Da cogliere Nell'attimo Che passava I diversi colori La diversa angolazione Però i segni Sono accostati Però sono flessi I segni Sono paralleli Non sono mai Sovrapposti E i segni Potenziano sempre I soggetti Il colore E la materia Vengono A descrivere Quello che passa Nel nostro animo Cosicché L'abilità Dell'arte Viene ad essere Il mezzo Per comunicare Le nostre ricerche La vita È amore È serenità La vita È fatta Per studiare Anche un unico Filo di erba E questa È la tradizione Perché Il filo di erba Che cambia Che muore Che risorge Che ti fa vedere Il verde Che diventa giallo Che si piega Che si drizza Conduce a disegnare Poi tutte le piante Certo che Il filo di erba Ti apre A tutto il discorso Delle stagioni Le grandi vie Del passaggio Gli animali La figura umana Tutto ciò Che si muove Non c'è niente Di fisso È tutto In evoluzione È tutto Verso Una verità Le religioni Ci raccontano Tutto questo Ma le religioni Passano Dio solo Resta L'acqua Arriva fino Alle tue labbra Non più in alto E l'angelo Ti verrà sempre Confortare E non prebettere mai Che tu possa Cadere La vita È il cammino Di un pellegrino Con Dio Che protegge Gli stranieri Non esistono I non fratelli Esistono I fratelli Dio non ci ha pensato Soli Dio ci ha pensato Tutti insieme Questa è di Van Gogh La cattedrale di Auvers Dove lui manifesta Nella scomposizione Nelle difficoltà Tutto il suo travaglio E la paura che cada Mentre in realtà È massiccia È potente Nel vigore Dei suoi colori Nella stabilità Delle sue forme Ed è la ricerca Di un cielo Che si avanza Sicuro E possente Come è Dio Siamo sulla soglia Dell'infinito Come è questo quadro Uno dei suoi più pregiati In cui lui si sente Povero Già in una casa Di riposo Abbandonato Sulla sedia Che nessuno Lo viene più a trovare Sembrerebbe un uomo Fermato Novecento quadri Un uomo che ha avuto tutto È stato pastore Aveva addirittura La cura d'anime Però Nessuno più lo guardava E nessuno gli parlava E nessuno lo considerava Trova grande forza In questa sua fase Quanto dipinge Alla moda giapponese Con il sole che sorge Che è Cristo Nella sua visione Con il giallo Che è colore primario È vitale La persona depressa Evita tutti gli altri Vede tutto lenti scure Addirittura non si vuole alzare Alla mattina E non vuole alimentarsi Invece La fede E la vita Farà sì Che uno si alzi E si incammini Come il samaritano Che va ad aiutare Colui che si trova In una situazione Di tale difficoltà Comprendere Comprendere Caricarsi Farsi premure Di tutti gli altri Questa è la nostra dignità Questa è la nostra dignità